Il tema dell'innovazione tecnologica nel settore delle costruzioni ha un focus fondamentale, che è quello della digitalizzazione dei processi. È un passaggio che sta avvenendo a scala internazionale. Ovviamente l'Italia pone una domanda importante, che è quella del patrimonio costruito esistente, di cui è capofila anche storico per i valori culturali, di monumentalità, ma richiede in maniera molto forte un grado di formazione innovativa. Oggi abbiamo parlato in maniera evidente di questa tematica, di quanto la formazione è legata all'innovazione dei processi. Si dovrà imparare a fare un nuovo lavoro, si dovranno imparare nuove espertisi, ci saranno degli skill collegati alla diagnostica, all'abilità di avere delle funzioni manageriali anche per la manutenzione, che dovrà essere sempre più predittiva e collegata a delle tecnologie, dei materiali che stanno cambiando. Ecco, tutto questo è lo scenario del futuro di cui oggi abbiamo parlato. E il cluster, i sistemi di confronto che mettono insieme impresa, ricerca e formazione, sono i luoghi deputati al confronto.